Cosa rappresentava avere in quel tempo una Lancia Fuglia? Beh, ai miei tempi sicuramente chi aveva le possibilità di entrare in questo mondo sicuramente era molto fortunato, diciamo così. Io ho sempre, diciamo così, col dito in bocca, chi vedeva i miei amici che avevano più possibilità di me, avevano queste possibilità e quindi io sempre, come dire, con le lacrime agli occhi perché non avendo le possibilità, oggi invecchiando, diciamo così, sono riuscito ad avere cose che da giovane non potevo e quindi questa in qualche modo è la storia. Possiamo dire che quest'auto ha un po' rivoluzionato la concezione, l'idea di auto perché insomma si stagliava sulle altre decisamente. Sicuramente, perché in quel periodo, nel 72, quando è nata la prima coupé, diciamo prima ancora, dopo la Fuglia, 1100, e quando è nata ha fatto un boom pazzesco, insomma, è stato un mito. Poi, chiaramente con il 1600 HF, Munari ha fatto storia con i rally, i rally del faraoni, eccetera, insomma. Qui c'è storia, grande storia su questa macchina qui, storia sportiva soprattutto. E poi, quando si parla di lancia, insomma, inginocchiarsi. È stato un grande marchio, un signore che ha adottato il Pont de Dion, inventato dai francesi, ma lui l'ha adottato, quindi è stato un grande da quel lato lì. E Carrozzeria Portante è stato uno dei primi ad adottarla, la Carrozzeria Portante, perché prima c'era lo chashì e quindi il telaio classico, quindi lui è stato uno dei primi per la Carrozzeria Portante, questo è stato una, come dire, era avanti coi tempi, già a quell'ora. Grazie.